Salve a tutti e benvenuti da Alberto in questo nuovo video sul guadagno online. Dunque oggi volevo fare un riassunto di un argomento molto interessante che è il ciclo di mercato. Per cui molti conoscono questo ciclo di mercato con le frasi che dicono molto spesso la gente la borsa va su, la borsa va giù e questo qui insomma è il ciclo di mercato e non si sa mai quando inizia e quando finisce. In realtà il ciclo di mercato si può intuire abbastanza facilmente perché molti non sanno che il mercato obbligazionario guida i rendimenti del mercato azionario questo per ogni paese, quindi il mercato obbligazionario della Germania guida il mercato azionario della Germania il mercato obbligazionario della Francia, quello degli USA, quello degli USA e così via dicendo. Ma come si può far capire, riuscire a capire quanto il mercato crescerà in media nei prossimi anni? Dunque noi sappiamo che gli stati danno questi buoni fruttiferi postali diciamo ai sottoscrittori sia privati che diciamo aziende per cui loro individuano quanto potrebbe crescere il mercato di quella determinata nazione e danno un buono diciamo ordinario corrispondente a quell'interesse. Quindi esempio per l'Italia adesso abbiamo questo buono ordinario che la media è sempre 20 anni per ogni paese quindi noi dobbiamo andare a vedere l'obbligazionario ventennale di ogni paese quindi adesso è lo 0,30 anche se adesso il ventennale è al 2% ma chiedetevi perché è ancora allo 0,30 da un anno, un anno e mezzo e non è salito non so all'1% perché adesso magari il ventennale è quasi al 2% perché non è salito? Perché poi ci sarà la grande discesa ecco perché non lo fanno salire questo qui in Italia ma anche altrove. Dunque noi dobbiamo prendere la durata dell'obbligazionario corrispondente al buono ordinario di ogni stato che sono 20 anni di solito e andare a calcolare l'interesse in questo caso composto perché gli interessi sono riconosciuti dopo un anno dalla sottoscrizione successivamente a ogni bimestre corrisposti al ribosso del buono cioè ogni anno vi mettono questi interessi che si vanno a sommare e diventano quindi buoni composti. Dunque noi andiamo a vedere esempio il mercato più grande del mondo sono gli Stati Uniti quindi diciamo il loro risparmio postale è tarato sul Dow Jones esempio noi andiamo a vedere i treasury americani quanto rendono adesso siamo a 2,13% il problema è che qua non abbiamo lo storico purtroppo non abbiamo tanto lo storico per andare a vedere in passato infatti si parte dal 2020 non c'è problema perché noi andiamo a vedere il decennale il treasury decennale quindi 2,13% adesso il 1,78% c'è lo 0,3% non ci sono grandi differenze tra i vari treasury a media e lunga scadenza qua però abbiamo uno storico dagli anni 70% quindi possiamo vedere diciamo fare delle prove poi andiamo anche in questo sito che vi calcola l'interesse composto dei risparmi l'economia per tutti della Banca d'Italia il sito della Banca d'Italia facciamo un esempio allora noi dobbiamo prendere il livello di partenza del Dow Jones adesso è questo qua 35.000 noi andiamo a prendere il livello massimo adesso è partito dagli anni 70 possiamo prendere facciamo così prendiamo questo 1 del 76 947 1,11.976 947 punti era 1,11.976 andiamo qua il livello era 7,3 7,3 7,5 quindi lo facciamo così 900 ci mettiamo il livello qua di partenza 950 punti che era il livello del Dow Jones per il ventennale che è la durata media diciamo per calcolare il ciclo di mercato vabbè i versamenti non c'erano gli interessi venivano calcolati a livello annuale vediamo con un 7,3 magari poi facciamo 7,5 perché il ventennale magari rende un po' di più a quanto poteva arrivare 3.887 quasi 4.000 punti 76 quindi andiamo a vedere nel 1996 più o meno vabbè però 1996 era un pochettino un po' più su infatti infatti non è dovevamo mettere un pochettino così 5.600 5.700 se noi invece andiamo perché era 7,3 il decennale facciamo facciamo prima 7,60 magari vediamo il ventennale è 4.100 5.600 oppure facciamo anche 8 4.400 però vedete che alla fine voi avevate riuscite a capire quanto vi può andare su un indice insomma e perché adesso noi non abbiamo la corrispondenza esatta del purtroppo non abbiamo la corrispondenza esatta del ventennale dell'epoca ci dobbiamo basare sul decennale però vedete che alla fine 5.45 più o meno da 950 poi vabbè l'errore c'è sempre comunque questo qui è quanto come si fa diciamo a vedere un po' il ciclo di mercato noi sappiamo che dopo vent'anni il mercato sarebbe salito facciamo un altro esempio magari che riusciamo ad individuarlo meglio questo qua facciamo nel 94 94 vediamo 3.900 ad ottobre 1.900 ad ottobre e vediamo il corrispondente qua siamo ad ottobre 7.8 un decennale 8% quindi 3.900 facciamo prima 7.8 3.900 per 7.8 e verrebbe 17.500 insomma quindi 94 noi dobbiamo andare 2014 17.500 facciamo anche 8 2014 ricordiamocelo 18.100 dunque 2014 il Dow Jones era arrivato 17.800 eccolo qua questa volta è andato abbastanza preciso 17.800 18.100 facciamo col vecchio rendimento decennale 17.500 quindi questa volta ci ha azzeccato abbastanza bene prima vabbè da 400 a 5.6 vabbè comunque da 950 prevedere che poteva salire fino a 400 in 20 anni vuol dire che avrebbe fatto una bella mea ha fatto 5.6 ok vabbè c'è stato dell'errore però in 20 anni non è che ha fatto l'80% d'errore allora questo vuol dire che l'obbligazionario guida il rendimento del mercato azionario poi vabbè magari ci potrebbe arrivare prima la previsione un po' dopo comunque questo qui è come alla fine ci arriva vediamo adesso facciamo un esempio l'ultimo 1.1 2035 8 1.1 2022 quindi noi andiamo nel 2002 2002 facciamo 10.000 10.000 per 2002 il rendimento era 1.1 2002 10.000 5 o facciamo 10.000 5 5 boh so dobbiamo fare 10.000 prima facciamo 10.000 5 con 5 poi magari facciamo con 5 50 27.800 5 5 50 magari vediamo un po' 30.000 facevo 30.000 quanto era arrivato nel 2000 35.000 però l'errore non è macroscopico noi sapevamo nel 2002 che sarebbe arrivato a 30.000 poi ha fatto un più o meno 20% ok va bene però questo è come si capisce il ciclo di mercato praticamente i grandi investitori investono nell'obbligazionario con i rendimenti che loro hanno nel mercato obbligazionario poi li riversano nel mercato azionario e questo è il motivo perché il mercato cresce quello che cambia nella crescita del mercato è la percentuale invece infatti qua vedete i rendimenti 13% si poteva aspettare un 1000% 13% all'anno con il composto si poteva aspettare un 1000% in 20 anni ma qua che era al 6% non poteva aspettare il 1000% sarà la metà 400% quello che fa variare la percentuale di salita del mercato sono i rendimenti dell'obbligazionario allora qua poi vedete qua cosa è successo nel 2002 2003 quindi senza parlare successivamente 2,7 1,9 lasciamo stare cosa succederà in futuro e quindi qua si riesce a capire l'andamento del mercato con un errore non esageratamente elevato magari un 20% più o meno però in 20 anni non è che sia esageratamente così alto quindi per questo video diciamo di spiegazione tecnica è tutto io vi do la rivederci al prossimo video sul guadagno online quindi arrivederci a tutti ciao 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 Grazie a tutti